In un museo è stata esposta una saponetta con il grasso di Silvio Berlusconi. Non è uno scherzo, infatti l'artista Gianni Motti espose in una fiera svizzera la sua opera intitolata Mani Pulite. Nell'opera si precisava che questo sapone era stato fatto con il grasso di Silvio Berlusconi. Si trattava del risultato di una liposuzione fatta dallo stesso Berlusconi in una clinica privata. Tanti rimasero sbalorditi e molti non ci credevano, tanto che hanno fatto il test del DNA. L'opera successivamente ebbe un successone, infatti un ignoto collezionista l'acquistò per 15.000 euro.